Ti sei fatto due piatti? Stai riprendendo? Certo Ma perché? Cosa stai mangiando? Botolino al botolino Com'è Daniela? Luca, Luca, dici, ti è piaciuta? Com'è? Com'è? Ma perché? Cosa hai mangiato? Marcello, da queste parti come andiamo? Ancora stai mangiando? Ottimo, ottimo Stai diventando mediterraneo, Marcello E qua che si dice? Male Ti soffre? Mi sento francesca dell'era Vuoi dare tutto il contesto? Stai con le moto Faccio le labbra attenti Che ti conosco Ma perché? Cos'ha di particolare? Questo? Ma questo è un'esperienza mistica Ho visto tutti i salti Tutti li ho visti Voi date tutto il consenso di metterlo su Youtube? Sì, sì Faccio la bottiglia Ah, ma Walter Ha finito Walter Esatto Ma Walter oramai è un veterano Ma Walter chiederà i danni Ma Walter Walter, questo non so Questo è La te La te Almeno Sì 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 Suri, hai capito che hai combinato? Non si sente, è Maria, tu lo sai che rischia tuo marito poi?